Ci sono una serie di reati, danneggiamento, rapina, porto abusivo d'armi, lesioni gravissime, diciamo reati decisamente gravi, decisamente importanti purtroppo sia per l'attività sia per la provincia che hanno colpito. Erano degli avvenimenti su cui la compagnia di Baiano e la stazione di Avella in tutto questo tempo non ha mai smesso di attenzionare anche per il clamore che avevano destato, soprattutto le modalità e la spregiudicatezza degli autori. Dopo diversi anni siamo riusciti a dare una prima risposta a questi avvenimenti. Ci sono sei misure cautelari, altre otto persone indagate. In che direzione proseguiranno le indagini? Le attività, come voi ben sapete, non si fermano mai. A volte, lo dico sempre, siamo più bravi, a volte meno bravi, più fortunati, meno fortunati. Abbiamo una serie di ipotesi che i militari della compagnia di Baiano stanno portando avanti già da tempo, anche attraverso dei servizi mirati che investono tutta una serie di comuni del mandamento baianese e che siamo fiduciosi in un proseguo sicuramente dell'attività. Grazie. 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 Grazie.